Il commissario straordinario del Policlinico di Bari, Vitangelo Dattoli, ha presentato il nuovo piano strategico aziendale che prevede il trasferimento di 5 reparti nel nuovo ospedale Covid della Fiera del Levante. Luca Ciciriello. Coniugare l'emergenza Covid con l'assistenza sanitaria ordinaria. E' attorno a queste due priorità che ruota il piano strategico aziendale relativo al semestre gennaio-giugno 2021 messo a punto dal commissario straordinario del Policlinico di Bari, Vitangelo Dattoli. Il nuovo piano organizzativo prevede da un lato il rafforzamento dell'assistenza dei pazienti Covid su cui il Policlinico di Bari è impegnato in prima linea, dall'altro la tutela delle prestazioni clinico-assistenziali ad alta specializzazione e la salvaguardia delle funzioni universitarie didattico-formative e di ricerca. La programmazione coincide nel gennaio 2021 con la necessità di riattivare i posti letto di aria medica che allo stato attuale risultano non operativi sia per la contingente riconversione in posti letto dedicati al Covid sia a seguito della indisponibilità del padiglione Chini posto sotto sequestro giudiziario. Le attività avviate già a partire dai primi giorni di gennaio includono la razionalizzazione delle risorse e degli spazi. L'attuale trend epidemiologico correlato al Covid ha consentito di pianificare all'interno della Fiera del Levante una struttura per affrontare qualsiasi situazione di emergenza sanitaria regionale e interregionale compatibile con il prosieguo dell'articolata offerta sanitaria assistenziale del Policlinico di Bari. All'interno dei moduli realizzati in Fiera troveranno spazio i posti letto di terapia intensiva, di terapia intensiva respiratoria, di nefrologia e quelli di aria internistica relativi alle unità operative di medicina interna. Rimarranno al Policlinico i posti letto Covid nei plessi di malattie infettive. Nell'ambito delle azioni programmate per far fronte all'emergenza Covid inoltre è prevista la realizzazione di una struttura da campo con 16 posti letto di terapia intensiva attigua al padiglione Asclepios in fase di ultimazione che consentirà l'assistenza di pazienti ad alta intensità di cura. Con apposita direttiva del commissario straordinario si è già provveduto a riattivare le unità operative di cardiologia ospedaliera, endocrinologia, reumatologia, medicina interna a baccelli, medicina interna a murri ed ematologia con settore trapianti.